salve a tutti qua da fabio ho già un nuovo video sbarbata prima di incominciare con lo sponsor del canale di youtube che si chiama eros rasatura tradizionale mi guarda anche stava amico lascio lì in descrizione mettiamo la faccia nella ciotola poi ci mette un gel della cella rossa in parma giovedì ma venerdì l'ho fatta venerdì ieri no ci stai adesso abbiamo il rasoio con il pettanaccio il rasoio del 2 jack di 87 armato con le cilette latino a beh vedo i stai e beh solamente mi piace mi piace ok il sapone usiamo figa il pennello della genet il tasso dobbiamo poi levarlo di più no no perché si un po' di più che mi piace un po' più di schiuma la mantola a questo periodo non mi piace un casino un po' di più 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 di più Grazie. 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 Io non cerco il BBS perfetto. Adesso ci mettiamo la denim, quello di balsamo e di poco poco poco. Non c'è un po' di più. E' 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 un po' di più. Allora. Scusate un attimo. Allora. La Nudea Griglietta Nasea si comporta molto bene. Perfetto. Guarda. Acrygiatatium. Funziona molto bene. La Nudea ci sta. Secondo me è una lammetta che funziona. Poi non ha creato irritazione o niente. Problemi zero. E questo è molto importante. Sì. Un pochino. Guarda dove c'è la costicina. E' normale. Vabbè. Cosa sta con i nostri. E' un pochino fresco. E' un pochino fresco. InSug oro. Vediamo poi unito. Cosa. Domenico. Ci sta per importe di terreno paningale. Scusate. Ho noi, faccio picer род belli per equally. E' proprio questo. E' un progn dir Carn tor disgale. O الدio? E' un prognor感are un pochino vivinto, allora e raccomando iscrivetevi al canale di eros lascio il link in descrizione e lascio il link in descrizione anche della pagina di notificazione se vi è piaciuto iscriviti al canale e attivate la campagna dei notici come tale lasciate like e vi auguro una buona domenica e una buona spavolata a tutti quanti al prossimo video ciao a tutti